Il rapporto sul mercato del lavoro 2020, frutto della collaborazione di cinque enti, Istat, Ministero del Lavoro, IMSS, INAIL e ANPAL, quest'anno approfondisce le conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro in termini di domanda e di offerta e delle politiche messe in atto per il sostegno dei lavoratori e delle imprese. In generale, il trimestre più critico dell'anno è stato il secondo trimestre, con il maggiore calo del PIL, delle ore lavorate e dell'occupazione. Nel terzo trimestre si è avuta una ripresa, ma nel quarto un nuovo calo. Più nel dettaglio, le ore lavorate sono quelle che hanno avuto il calo maggiore, si tratta di 3,9 miliardi di ore lavorate e meno nei primi tre trimestri del 2020. Anche l'occupazione ha avuto un calo senza precedenti, meno 470 mila occupati nella media dei tre trimestri del 2020 rispetto a un anno prima, ma comunque il calo è stato meno forte rispetto a quello delle ore e questo perché, proprio per gli elementi di sostegno messi in campo, in primo luogo la cassa integrazione guadagni. Si considera che tra marzo e settembre più di 6 milioni di lavoratori sono stati beneficiati di almeno un trattamento di cassa integrazione e dal lato delle imprese, tra marzo e giugno il 63% ha adottato la cassa integrazione, quota che è scesa al 42% fra giugno e novembre. Chi è stato più colpito dalla crisi? Anche questo viene approfondito nel rapporto dal lato sia della domanda che dell'offerta. In termini di settori e di occupazione, il terziario è sicuramente il settore più colpito, in particolare i comparti legati al turismo, alle attività artistiche, all'intrettimento e allo sport. Dal lato delle imprese, alcune hanno avuto seri rischi di tenuta occupazionale, soprattutto le imprese più piccole e quelle collegate ai settori che hanno avuto maggiori difficoltà, ma altre imprese, circa il 36%, hanno adottato strategie difensive e di riorganizzazione del lavoro per rispondere in qualche modo alla crisi. Dal lato del tipo di lavoro svolto, i dipendenti a termine sono quelli che hanno subito il calo maggiore, quasi 400 mila occupati in meno nella media dei tre trimestri 2020 rispetto al 2019 e perché da un lato si è avuto il mancati rinnovi dei contratti in scadenza, ma dall'altro vi è stata una forte caduta delle attivazioni di nuovi rapporti di lavoro, soprattutto quelli di breve durata, quindi rapporti mai iniziati. Questo ha provocato anche delle conseguenze nella continuità lavorativa per gli individui e nel rapporto viene approfondita un'analisi che segue gli individui nel periodo del lockdown e in quello successivo. Proprio rispetto agli individui, quelli più colpiti sono coloro che già avevano più difficoltà di inserimento e di mantenimento del lavoro, i giovani, le donne e gli stranieri. Riguardo alle donne, il tasso di occupazione nella media dei primi tre trimestri 2020 ha avuto un calo doppio rispetto a quello degli uomini, con un gap di genere che sale a 18,3 punti, tra i più alti in Europa. I giovani più coinvolti nei lavori a termine presentano la diminuzione più consistente e spiegano più della metà del calo dell'occupazione totale nel 2020. Tra gli altri aspetti che vengono approfonditi via lo smart working, sempre più autorizzato nel periodo di emergenza, il picco nel secondo trimestre che occupa circa il 19% degli occupati che hanno lavorato da casa almeno una parte del tempo e dal lato delle imprese noi abbiamo che una su cinque tra marzo e maggio ha utilizzato lo smart working, quota che è scesa all'11,3 fra giugno e novembre. Infine il rapporto ha un capitolo dedicato alle dedunce di infortunie sul lavoro e alle malattie professionali e quest'anno oltre alla dinamica degli ultimi cinque anni vi è un focus sui primi nove mesi del 2020, dove da un lato abbiamo una riduzione del totale delle denunce dovuto alla smart working e al lockdown che hanno diminuito il rischio di avere un incidente, ma allo stesso tempo vi è stato un aumento delle denunce di infortunio mortali dovuto alla nuova forma di infortunio da contagio Covid-19.